c'è una trazione della madonna la moto qua l'ho provata anch'io quella del coso è uno spettacolo è un po più leggera davanti e poi la guidi da dio cazzo c'è una trazione dietro che è spettacolare e poi metti la mappatura quella soft che diventa come questa non ce la fa più siamo arrivati non ce la fa più mi dai le chiavi della macchina no se no non mi porta a casa più questo qua stasera sono andati avanti un pezzettino ma devi scendere a piedi però ma che quella non è un beta sì 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 ma giusto fino alla dopo mi sono seduto quasi un pezzettino mai passato è un pezzo più molto è un po' Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info